In arrivo da tutta Italia, Santa Maria di Leuca e concorrenti che parteciperanno al campionato italiano assoluto di prima categoria maschile e femminile di pesca subacque in apnea. Da giovedì 22 a domenica 25 giugno, la deliziosa location di Finibusterre ospiterà l'evento, che è il patrocinio del comune di Castrignano, Yachting Club, Lega Navale Italiana, Circolo Nautico Usonia e Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacque. Un'opportunità importante dal punto di vista sportivo e anche turistico. Esattamente, siamo fieri anche quest'anno dopo tante vicissitudini, tanti stop e siamo contenti di effettuare questa manifestazione qui, il campionato assoluto di pesca in apnea maschile e femminile a Santa Maria di Leuca. Sarà una bellissima edizione, speriamo che vada tutto per il meglio e saremo lieti di soffrire di questa location qui della Lega Navale, che si è messa a disposizione con noi. Ringraziamo anche il Presidente, ringraziamo la Fipsas che ci ha dato questa possibilità e aspettiamo l'evento. Per chiunque voglia venire ad assistere a questo evento è aperto a tutti. Quanti sono i partecipanti? Gli eventi di ritto, perché non tutti possono accedere a questo campionato, perché devono fare delle preselezioni, delle gare, diciamo, antecedente a questo campionato. Quindi sono in totale 36 atleti e un numero ristretto di donne, perché è il secondo anno che partecipano le donne a questo campionato qui.